eccoci ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale benvenuti su questo nuovo video allora come vi avevo già accennato prima volevo appunto farvi sfogliare insieme a voi l'album nuovo che ancora non è in vigore ma entrerà in vigore dal 28 dicembre e terminerà il 27 gennaio 2020 ed è questo qua è album 17 dove finalmente ci saranno gli sconti allora voglio farvi subito notare una cosa che ci sono tantissime offerte come possiamo vedere dalle prime pagine dell'album quindi sfogliatelo perché veramente ne vale la pena allora iniziamo subito con le promozioni che ci sono per quanto riguarda le creme viso sia giorno che notte come vedete sono tutte al 40 per cento di sconto quindi conveniente come come promozione questa e tutte le linee diciamo che sono a sconto almeno quelle che che generalmente hanno un prezzo diciamo un pochino più elevato rispetto alle altre quindi conveniente prenderle quando sono appunto in promozione vedete qui ci sono tutte le linee delle creme viso che sono tutte come dicevo prima al 40 per cento di sconto come potete vedere dall'immagine e poi iniziano qui il viso specifico anche queste l'hydra vegetal abbiamo la sebo pure vegetal questa qui poi abbiamo la sebo vegetal anche questa con il 40 per cento di sconto la sensitive sempre con il 40 per cento di sconto poi abbiamo la fantastica promozione degli struccanti il bifasico e lo struccante delicato quindi ne possiamo acquistare due quello grande e quello piccolo a 9 euro e 95 sia per quanto riguarda il bifasico che per quanto riguarda quello normale diciamo poi andando avanti troviamo i nostri prodotti abituali quelli alla camomilla con l'olio micellare la detergente più tonico detergente gel detergente e la crema viso e corpo eccola qua alla camomilla sempre questi non sono sconto poi abbiamo le nostre maschere la nostra bb cream che è questa qui e giù in fondo abbiamo i nostri amatissimi balsamo labbra che nell'ultimo ordine ne avevano ordinati tantissimi quindi poi abbiamo i nostri correttori anche questi in sconto del 40 per cento come vedete poi abbiamo andando avanti sempre fondotinta anche questi in sconto del 40 per cento questi qua tutti fondotinta scontati tranne il fondotinta super matte che non è a sconto quindi abbiamo anche questa fantastica promozione e qui abbiamo anche le terre i fard sempre a sconto del 40 per cento poi troviamo qui abbiamo sempre la cipria sia in polvere che compatta diciamo opacizzante che è questa di qua questa i nostri pennelli quindi sempre soliti pennelli poi qui abbiamo gli eyeliner questi non sono a sconto poi abbiamo le nostre matite da stilo occhi waterproof che anche questa è a sconto del 40 per cento come potete vedere le nostre due palette poi di qua abbiamo i nostri ombretti in crema anche questi no questi non sono a sconto poi troviamo le nostre matite colore vegetale quelle normali anche queste non sono a sconto con il temperino poi nostri mascara per le sopracciglia la pinzetta che è questa qui e questo è la matita per le sopracciglia anche questa scontata poi troviamo i nostri mascara a sconto abbiamo il volume dixir che è questo qui vedete questo qui cerchiato e poi abbiamo anche il mascara vertige che è questo qui vertige volume gli altri diciamo il mascara vertige long hair abbiamo a sconto e gli altri diciamo costano più o meno come sempre poi per quanto riguarda invece i trucchi abbiamo le nostre matite il nostro primer labbra opacizzante i nostri rossetti che anche questi non sono in promozione che costano sempre uguale poi qui abbiamo un inserto vedete fino ad esaurimento scorte quindi abbiamo un inserto in cui ci sono diciamo i prodotti in fine serie allora vediamo insieme allora qui torna la nostra linea griglia scusate ma è caduto tutto allora dicevo qui torna la nostra amatissima linea green green summer con tutti i nostri prodotti che avevamo un po di tempo fa nel catalogo quindi questi e sono tutti in fine serie quindi sconti imperdibili poi abbiamo i nostri amatissimi solari che anche questi qua sono tutti in fine serie dopo sole e l'acqua le l'acqua attiva abbronzatura anche questi sono in fine serie quindi sono sconti oltre il 40 per cento al 30 per cento di sconti troviamo un po maggio per i piedi anche questo in fine serie poi di qua troviamo tutta la linea capelli riparazione che è questa qui in cui c'è la maschera lo shampoo il balsamo e il siero fortificante della vecchia linea che era presente fino a poco tempo fa sugli album diciamo e questa è la nuova è la vecchia linea riparazione di qua girando troviamo l'i love my planet questo qui per cui se si acquista uno di questi viene piantato un albero poi abbiamo in fondo abbiamo quello per capelli spenti quello brillantezza quindi con tutta la linea appunto shampoo il balsamo e aceto da risciacquo anche in super sconto al 28 per cento poi di qua abbiamo la linea colore che anche questa è in fine serie quindi sconti abbiamo sconti bellissimi abbiamo shampoo balsamo e maschera lo shampoo senza schiuma che è questo qua giù non so se si riesce a vedere anche questo in sconto perché è fra i prodotti in fine serie qui abbiamo il nostro amatissimo shampoo volume shampoo e balsamo volume con anche questo il 40 per cento di sconto qua su abbiamo quello nutriente shampoo balsamo e maschera qui abbiamo una fantastica promozione ragazzi per quanto riguarda i nostri gommage per i capelli ne possiamo acquistare due a 8 euro quindi fantastica promozione questa qua dei gommage perché diciamo sul catalogo normale di solito costano un pochino di più quindi averne due a 8 euro è un'offerta bellissima e poi qua giù in fondo abbiamo lo shampoo e il balsamo anti pollution anche questi in fine serie quindi col 40 per cento di sconto e questi sono i prodotti diciamo dell'inserto poi qui l'ultima cosa dell'inserto l'ultimo prodotto diciamo è questa confezione qui che era già stata presente in album negli album precedenti dove dentro questa scatola abbiamo la crema mani idratante allarmica il nostro struccante rapido occhi e la crema dolcezza viso e corpo questa qui alla camomilla anche questo è in super offerta al 38 per cento di sconto e lo pagate solo 8 euro come potete vedere da qua giù quindi bellissime offerte diciamo in fine serie questa volta si sono veramente superati poi continuano qui i nostri rossetti tornando alle pagine normali i nostri matitoni per le labbra sempre questi qua sono i nostre le nostre tinte che anche di queste ho fatto uno spoiler veloce quando ho fatto lo spacchettamento poi qui abbiamo i nostri smarti le nostre basi rinforzanti e qui iniziano i trattamenti corpo anche qui abbiamo qualcosa in sconto del 40 per cento un prodotto che è a sconto è questo questo qui è il latte nutriente intenso per pelli molto secche e questo qui col col tappo diciamo dosatore poi troviamo se giriamo pagina troviamo anche di qua i nostri latti idratanti e latte nutriente sempre a sconto questi qui poi troviamo i nostri prodotti l'olio sotto la doccia e il gommaggio corpo all'albicocca questo qua sempre ascolto il 40 per cento i nostri amatissimi deodoranti che sono qua giù in fondo poi andando avanti abbiamo la linea lifting che è questa qui anticellulite questa di qua ci sono i nuovi prodotti alla mamelis che già conosciamo perché sono presenti in tutti gli album qui abbiamo le nostre creme mani tutte tutte le creme mani che sono disponibili in questo catalogo questo qui è l'olio esfoliante e qua giù abbiamo tutte le nostre invece creme per quanto riguarda i piedi hanno in fuori che il gommaggio piedi perché vi ho fatto vedere era nell'inserto tra i prodotti in fine serie quindi quello penso che non sarà più disponibile a catalogo quindi se lo volete acquistare diciamo approfittate dell'inserto poi i complementi alimentari anche qui ci sono i risconti quindi benissimo poi andando avanti troviamo i nostri amatissimi profumi eccoli qua questi qui anche questi anche sui profumi ci sono risconti quindi abbiamo l'evidence a sconto del 40 per cento poi qua abbiamo tutti quelli o fresh questi qua quello al mughetto quello alla fra alla cilie alla rosa e quello al tè verde poi abbiamo mughetto verbena eccetera eccetera tutti i profumi diciamo sono quelli nuovi poi abbiamo il we all amour anche questo in super sconto calc not amour sempre a sconto del 40 per cento qui ci sono invece i profumi nuovi che questi non ci sono sconti particolari abbiamo il plein soleil il quere benuit il sable fove matin blank sel d'azur e tropical tentation quindi li abbiamo tutti qua raffigurati e questi diciamo che non sono a sconto qui inizia tutta la linea uomo per quanto riguarda la linea uomo a sconto abbiamo il balsamo dopo barba che è questo qui qua ci sono i profumi e qui abbiamo il il balsamo dopo barba il trattamento 3 in 1 e la schiuma da barba quindi buonissima offerta anche questa poi abbiamo qui tutti i profumi da uomo qui non ci sono sconti ok poi troviamo girando andando avanti passiamo alla linea capelli e questi come sappiamo non sono in promozione perché costano già poco di suo diciamo quindi non hanno messo alcuno sconto e abbiamo tutte le linee solite tradizionali quella riparazione quella colore quella quelli per i riflessi che sono qua giù in fondo questo qui è quello brillantezza poi abbiamo i love my planet quello per capelli delicati senza schiuma questi qui sono quelli anti caduta eccetera eccetera questi sono quelli della vecchia edizione capelli ricci e capelli lisci questo che è quello volume con lo spray anche e anche qui non ci sono particolari promozioni come vi ho già detto prima passiamo adesso ai prodotti per quanto riguarda l'igiene allora abbiamo la promozione sulle creme mani piccoline queste qui da 30 ml queste qui come vedete da qua su se ne possono prendere 2 a 5 euro quindi due creme mani vi devono costare solo 5 euro e questa è una fantastica promozione perché le creme mani queste qui diciamo di solito costano 2 euro e 95 l'una quindi 2 a 5 euro è un'ottima promozione qui ci sono i nostri amatissimi latti corpo saponette saponi mani qui ci sono tutte le linee questa qui è quella all'oliva poi abbiamo la vaniglia abbiamo il mango abbiamo il cocco abbiamo la lavanda il lampone la mandorla e l'argan e qui inizia la bellissima direi bellissima promozione dei bagno schiuma possiamo acquistare 2 bagno schiuma a 6 euro e 95 quindi a scelta tra i gusti che più ci piacciono quindi abbiamo tutti i bagno schiuma delle stesse linee che vi ho detto prima vedete sono tutti questi raffigurati e qui diciamo che abbiamo queste fantastiche promozioni allora questo album secondo me vale la pena di sfogliarlo perché come vi ho fatto vedere ci sono delle offerte imperdibili io mi auguro che questo video non sia stato lunghissimo che vi sia piaciuto e voglio dirvi solo una cosa che nei prossimi album ci saranno delle novità assolute quindi ci vedremo presto per mettere diciamo così in evidenza queste novità e niente io vi saluto vi ringrazio vi faccio ancora tantissimi auguri per domani vi auguro di trascorrere un sereno natale con amici e parenti e noi ci vediamo con lo spacchettamento dell'album 17 che spero sarà molto presto perché spero di fare un grande ordine con questo album visto che ci sono gli sconti insomma penso che le clienti ne approfitteranno sicuramente quindi ci vedremo molto presto con questo album con questo spacchettamento bene ragazzi io vi saluto a questo punto vi ringrazio per aver visto il video e come vi dicevo prima ricordatevi sempre se volete entrare a far parte di questa azienda contattatemi senza problemi ci mettiamo in contatto anche se siete dall'altra parte del mondo non importa ci mettiamo in contatto tramite whatsapp tramite facebook tramite quello che volete e vi spiegherò appunto come poter fare per entrare quindi io vi saluto vi mando un grosso bacio e vi auguro di trascorrere un sereno natale e ciao a tutti